Tu che accendi la tv, ora che te le comandi tu, se vorrai un sorriso volare, posandosi leggero su quello che vuoi tu. Eccoci qua, benvenuti alla decima puntata, questa è un'avventura meravigliosa, i coccodrilli da un lato, poi c'era quello che sceliva. Lucio, l'abbiamo iniziato ora la puntata del programma, c'è la telecamera. Ciao, buonasera, ci vediamo dopo. Che ti ha preso? Carlo, a proposito, ti salutano zia Carmela e zia Brigio, vogliamo sapere che, come stai? Poi, poi cazzo mai, teniamoci in contatto. Ma come teniamoci in contatto? Per tutto un'estate. Capisci, no, che lei è Carlo, il mio cugino, guarda, è un'ossessione, non mi lascia libero, ogni volta vediamoci. Stragliauli, Baglini, Achilli e poi chi più ne ha più ne metta, Anonimi e poi Gavini, insomma, questa è aria fresca. La decima puntata, vedo e stravedo ancora che questa, ahimè, è la penultima puntata. La prossima settimana, l'undicesima, sarà il Gran Gana finale, ma adesso non ci pensiamo a questo. Lasciate a perdere le lacrimucce, pensiamo a vivere nel modo migliore la puntata numero 10. Sigla! La prossima settimana, l'undicesima, sarà il Gran Gana finale, ma adesso non ci pensiamo a vivere nel modo migliore la puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Carlo Conti e soprattutto il pubblico della bussola. Alla prossima settimana. Ciao. Alla prossima. Voglio un po' d'aria fresca, voglio aprire una finestra per entrare dentro la tv. Qui la storia è sempre uguale, chi l'ha visto sarà l'amore, scommettiamo che non ne puoi più. Ridi, che ci vuoi fare se non ci vivi su? Ridi, non spugna il sole se non vivi tu. Voglio un po' d'aria fresca, spalanchiamo una finestra, ci vendiamo dentro la tv. Darci un po' d'aria fresca, ragioniamo con la testa, non guardiamo quello che noi tu. Ridi, che ci vuoi fare se non ci vivi su? Ridi, non spugna il sole se non vivi tu. Ridi, che ci vuoi fare se non vivi tu.